La partita è un momento di respiro Tante emozioni, le squadre si stanno studiando, nessuna delle due Guarda papà, che non hai utilità di segnare con tutte quelle sigarette Mi ragione La nostra squadra sembra reagire con carattere Dopo un ottimo tiki taka lancio di russo per mattino che fugge sulla fascia destra Cross Colpo di destra Cross Go Hai visto? Abbiamo fatto gol Anzi, ne abbiamo fatti due insieme, io e te E ne possiamo fare tanti altri Dopo tanta sofferenza La nostra nazionale è riuscita a segnare E ora sta controllando la partita Non fumare Non consumare nessuna forma di tabacco Scute 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 Grazie Grazie a tutti.